La lezione di oggi verte intorno al tema dell'istituzionalizzazione della violenza, partendo dalle riflessioni del drammaturgo e psichiatra argentino Edoardo Pavlovski. Quest'ultimo inquadra il problema della violenza e i derivati ad essa connessi, quindi la repressione e la tortura, partendo dallo studio dei meccanismi di quello che egli chiama di produzione di soggettività istituzionale, che trasforma in normale, sono le stesse parole dell'autore, in ciò che è mostruoso. Il drammaturgo argentino Edoardo Pavlovski ha scritto una ventina di pezzi teatrali e nella maggior parte dei casi si è reso interprete delle sue opere, effettivamente la sua attività oscilla tra il lavoro come uomo di teatro e l'attività psicanalitica, ed entrambe convergono sulla preoccupazione riguardante i problemi della repressione e in particolare della tortura. L'aspetto originale della sua opera riguarda proprio l'ottica con la quale lui affronta il problema. L'angolo di visione non è quello della vittima, ma è quello del repressore. Ci sono due opere, in realtà tre, in cui egli tratta questo tema. Uno è Il signor Galindes e l'altra è Potestad. Vorrei leggere un frammento in cui lui imposta il problema, ed è Egli dice, il repressore ci appare sempre più sofisticato, più scientifico, più ambiguo al giorno d'oggi, più difficile da caratterizzare. È possibile che si trovi vicino a noi, che usi il nostro stesso linguaggio, che abbia le nostre stesse abitudini. Può insinuarsi in ogni nostro interstizio. Parla di una filosofia, di una ideologia che sta dietro alla personalità del torturatore. Il signor Galindes è un'opera premonitoria, un'opera che è stata pubblicata nel 1972 e si presenta nel contesto storico argentino come un'anticipazione di quello che poi sarebbe stata la modalità di agire della dittatura militare tra il 1976 e il 1983. Ci troviamo in quest'opera davanti alla creazione, possiamo dire così, di un mestiere. La cosiddetta letteratura di formazione sembra in questo caso trasmettersi a proprio l'apprendistato del mestiere che è il mestiere della tortura, quindi la formazione di un carattere. Non si tratta solo di acquisire delle caratteristiche prettamente pratiche, ma si tratta proprio di avere l'ideologia che forma questo torturatore. In uno dei frammenti, uno dei giovani apprendisti, uno dei personaggi principali, Edoardo, dice che la nazione tutta sa dell'esistenza della nostra professione. Lo sanno anche i nostri nemici, sanno che il nostro lavoro creatore e scientifico è una trincea e così ognuno per conto suo deve lottare in questa guerra definitiva contro coloro che tentano, seguendo ideologie esotiche, di distruggere il nostro stile di vita, il nostro essere nazionale. Quali sono i personaggi che entrano in gioco? I personaggi sono un giovane appunto apprendista che ha appena finito il servizio militare e che lo troviamo in uno spazio indefinito insieme a due personaggi che anche essi sono difficili da identificare, non si capisce quale sia il mestiere che loro svolgano e che cosa stiano facendo in questo spazio indefinito e l'azione si va definendo attraverso il loro incontro che culminerà proprio nel momento della tortura che verrà effettuata nei confronti di due donne che di professione fanno il mestiere delle prostitute. L'apice appunto dell'opera è quello che ci farà comprendere che ci troviamo di fronte a due, tre torturatori professionisti. Tutta l'opera si svolge nell'attesa appunto dell'arrivo del lavoro da compiere. Emblematico risulta essere uno dei personaggi, il personaggio di Sara, che rappresenta proprio la psicologia di quello che noi siamo abituati a chiamare la gente normale e del suo rapporto perverso con la repressione e con la tortura. Nel momento in cui questo personaggio fa dei discorsi moralistici e li compie senza entrare nel merito di quello che sarebbe appunto il suo mestiere. Questo modo di affrontare la realtà diventa uno strumento della propria sicurezza e costituisce un meccanismo prezioso per sfuggire dalle responsabilità. Quindi il problema di coscienza in questo modo viene eliminato. Possiamo dire che Sara rappresenta appunto il prototipo della morale convenzionale. Uno degli aspetti più interessanti dell'opera di Edoardo Pavlovski è proprio il linguaggio che egli adopera nelle sue opere teatrali e che è un linguaggio estremamente ambiguo. Tutti i personaggi adottano un comportamento che egli definisce simpatico, di identificazione con il linguaggio della vita quotidiana, in particolare del personaggio del maschio o del macio argentino che si identifica con il piacere per le donne, con il gusto per il calcio, con determinate atti quotidiani che sarebbero anche mangiare l'assado o bere il mate. Ecco, crea questo rapporto simpatico in cui lo stesso spettatore si identifica nel personaggio. Quindi, in che cosa consiste questa ambiguità? È una tecnica che permette attraverso un processo di alternanza tra l'assurdo e il comico, anche l'esplettamento ironico appunto di elementi propri del carattere convenzionale dell'argentino, di giungere allo svellamento di una realtà che è effettivamente molto crudele. Quindi, tutto si muove all'interno dei termini dell'ambiguità del linguaggio pavlovskiano in cui nulla pare evidente, nulla pare esplicito, al contrario, ognuno dei segni drammatici, sia per chi approccia il testo o chi è davanti allo spettacolo per lo spettatore, diventa un processo di decodificazione, un compito di decodificazione. Possiamo dire che le espressioni grossolane sono costanti e in qualche modo aiutano anche ad avvicinarsi al personaggio con simpatia e anche con ironia. Ci sono molte gag comiche che l'autore introduce nella sua opera. I personaggi appartengono quindi a un'estrazione sociale bassa, appunto l'abbiamo già detto, calcio, donne, famiglia, sesso, eccetera. Il problema che pone attraverso questi personaggi è che la loro quotidianità è fatta anche di sentimento e questo si vede in uno dei frammenti dell'opera in cui uno dei torturatori parla con la figlia al telefono e qui vediamo la sera prima di dormire uno dei padri più amorevoli che si possano immaginare. Quindi sdolcinato, affettuoso, eccetera, eccetera, dopodiché compie l'atto di tortura. Quindi atrocità e tenerezza si confondono costantemente e questo è ciò che crea questo linguaggio ambiguo. Nel signor Galintes gli interessava più che altro parlare dell'istituzionalizzazione della tortura più che della patologia individuale dei torturatori, i quali a loro volta erano vittima dell'istituzione. Se insistiamo, scrive Pavlovski, nel parlare di casi psichiatrici individuali dei torturatori, perdiamo di vista l'asse centrale della problematica, la tortura o il rapimento come istituzione. Mi soffermo brevemente sul personaggio di Edoardo perché esiste una differenza ben chiara tra il personaggio di Edoardo che arriva appunto per compiere questa costruzione del suo carattere e gli altri due personaggi che invece rappresentano proprio le ingenuità, possiamo così definirla, o la purezza dell'orrore con la quale si avvicinano al loro mestiere. Edoardo è già ideologicamente pronto attraverso tutti i dialoghi con il personaggio principale invisibile che sarebbe il personaggio del signor Galintes che porta il titolo del testo. Il signor Galintes è un personaggio anonimo che entra nel testo solo attraverso delle telefonate e quindi è il personaggio che trasmette questa ideologia. In un momento, dice lo stesso Edoardo, come direbbe il signor Galintes, ognuno deve lottare dalla sua trincea e questa è la mia. E quindi in questo momento, una volta che ha appreso questo mestiere della tortura, prende la piccana in mano, la piccana è lo strumento di tortura che trasmette elettricità nelle parti intime del corpo. E come dice Galintes, e lo cita, non possiamo non segnalare l'enorme sforzo di vocazione che la nostra professione esige. Solo con questa fede, con questa volontà di raggiungere l'adeguamento mentale necessario per l'esito dei nostri compiti. Fede e tecnica sono quindi la chiave per un gruppo di uomini privilegiati, con missione eccezionale. Ora vengo al dunque della questione. Edoardo Pavlovski ci tiene a rispondere ad una domanda. Come sia possibile trasmettere istituzionalmente quel tipo di soggettività che fa dei torturatori legittimi fenomeni quotidiani, ovi e naturali. E in questo senso Pavlovski risponde parlando appunto di regime di affezioni o quel rapporto simpatico menzionato all'inizio, al cui interno si muove un individuo nel suo rapporto con le istituzioni e dei quali è pronto a ricevere i vari messaggi. In realtà Pavlovski prende come punto, come spunto, la testimonianza di due detenuti politici uruguayani e le loro memorie, che sono Memorias del Calavosso, in cui loro spiegano, no? Tutti gli ufficiali, tutto il personale della protezione militare carceraria facevano dei corsi in cui li maneggiavano meticolosamente con fondamenti ideologici. E dicevano loro che noi eravamo dei traditori della patria, noi detenuti erano traditori della patria, assassini, inconsistenti. Tutto questo conformava in loro quello che Pavlovski definisce criterio ideologico. E poi, dice, erano coerentemente fascisti. E qui mi permetto di nuovo di leggere un frammento di Pavlovski in cui dice Tutto ciò include una logica di affezioni nella totalità della condotta. Non esiste dissociazione della personalità dentro la logica istituzionale. L'istituzione produce coerenza in questo tipo di soggettività. La cosa ovvia, la cosa normale è la preparazione ideologica e quindi il fascismo. E la sua complementarietà, la violenza. Quindi, di fronte a determinate situazioni, si cerca di instaurare il timore, un timore che paralizza, e non si trovano mai irresponsabili. Sono tutte voci anonime. E questa è la cosa più importante ma anche più agghiacciante perché questo crea, attraverso la paura, la complicità civile di un grandissimo settore della popolazione e questo è quello che è successo durante la dittatura argentina. Aggiunge Pavlovsky dice le democrazie autoritarie hanno bisogno che un grande settore della popolazione interiorizzi come ovvie la corruzione, il controllo ideologico, le minacce o gli attentati nei confronti di persone che cercano di denunciare questo tipo di anormalità. L'altra opera interessante di Edoardo Pavlovsky è Potestad che tratta proprio il tema dell'appropriazione illegale di bambini neonati durante il periodo della dittatura. Anche in questo caso egli stesso ha messo l'opera teatrale in scena ed egli stesso è stato l'interprete e a questo proposito che cosa dice l'autore? Che non ha voluto anche qui indagare il fenomeno della patologia in sé come abbiamo detto anche prima. Dice nelle mie opere il torturatore produce un fenomeno di identificazione con il lettore spettatore. Il personaggio in Potestad che è un padre rapinatore torturatore, medico che sia preopria della bambina e che partecipa anche all'uccisione dei genitori della bambina. Questo personaggio inizia a parlare del suo divenire esistenziale della sua decadenza della sua passione che non c'è più della stanchezza della vita e anche qui comincia a creare questo processo di identificazione con il pubblico e con il lettore. Quindi il tutto viene accompagnato dalla disperazione nel tentativo di recuperare la gioventù la immagine femminile iniziale l'amore nei confronti della moglie eccetera eccetera e poi improvvisamente questo personaggio al quale hanno rubato la figlia si trasforma entra in quello che Pavlovski chiama uno spazio pre-estensivo che esce dalla coerenza dello spazio tra virgolette normale o del tempo scenografico e diventa appunto quel soggetto torturatore una specie di Mussolini che lo dice lo stesso lo stesso Pavlovski che ha rapito la figlia che le ha tolto la propria identità e che l'ha tolta dagli spazi in cui lei era avrebbe dovuto dovuto crescere ecco concludo con la con questa frase di Pavlovski molte persone mi hanno criticato per questo tipo di percorso drammatico mi dicevano dopo aver visto lo spettacolo mi hai fatto emozionare e poi non vorrai dire che i torturatori hanno sentimenti e lui risponde io direi proprio di sì affermare che un rapinatore non può sentire affetto per la bambina rapinatore di bambini per la bambina o bambino che rapisce è un'idea molto bella ma troppo legata al desiderio dello psicanalista ecco grazie a tutti 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 grazie a tutti